Le misure di confinamento hanno bloccato una compagnia di circensi a Rovigo, precisamente a Borsea. Parrocchia e i volontari danno una mano procurando il cibo per gli animali. Luca Colombo e Marco Madini. Da quando per le precauzioni anticontagio il circo Busnelli Newman è confinato alle porte di Rovigo sono nati un poni, due capre, un lama. Niente spettacoli, niente incassi, 20 persone da mantenere, una cinquantina di animali da governare. L'intraprendenza di Don Silvio, contagiosa da ben prima nella generosità, ha mosso la frazione di Borsea con la sua rete di volontariato. Ora è l'associazione Bandiera Gialla a dare una mano al circo, portando paglia e cibo per le bestie. Necessitano e noi lo facciamo con tutto il cuore e con tutte le nostre forze. Siamo stati fortunati a arrivare a Rovigo, che abbiamo trovato Bandiera Gialla, Don Silvio, che ci stanno aiutando. Non riusciremo mai a ringraziarli per quanto stanno facendo per noi. Anche l'ente nazionale del circo si è mosso, però è una cosa molto lunga. Collaborando con il comune di Rovigo, Bandiera Gialla consegna anche buoni e pacchi spesa a famiglie in difficoltà. La parrocchia di Borsea e casa di Abram accolgono 21 persone. Chi le sta facendo le mascherine come quella che indossa? Sono i nostri ospiti che sono nella casa di accoglienza a Grignano. Sono soli, sono senza dimora e quindi abbiamo cercato di capire come potevamo coinvolgerli anche in questa situazione. Non c'è solo il virus che uccide, ma anche il virus così dell'indifferenza. Quindi di fronte a tante parole ci sono dei fatti come insegna il Vangelo, come insegna Papa Francesco.